Amici di Onda Libera TV siamo a Fano presso l'Istituto Tecnico Commerciale Cesare Battisti dove tra breve il professore Alberto Marino presenterà il suo libro Enrico Mattei deve morire. Enrico Mattei, sappiamo tutti, è uno dei primi misteri dell'Italia degli ultimi 40 anni. Professore, nel suo libro cosa vuole sottolineare? Il libro si occupa non solo della vita e dei principali trattati che Mattei sottoscrisse e quindi dell'attività politico-imprenditoriale di questo grandissimo uomo, peraltro figlio delle Marche, ma soprattutto delle risultanze dell'ultima inchiesta, quella terminata nel 2006 dal dottor Enzo Calia della procura di Pavia che ha sottolineato come l'incidente aereo di Bascapè non fu un incidente ma si trattò di un sabotaggio e quindi di un assassino, quindi di una strage e come noi tutti sappiamo i reati di strage sono imperscrittibili per cui io sto girando un po' per tutte le città d'Italia presentando questo mio libro ma soprattutto con la volontà e con l'intento di chiedere ai consigli comunali e quindi alle persone di buona volontà di tutta Italia di far pressione per la riapertura del caso Mattei al fine di assicurare alla giustizia gli esecutori materiali e i mandanti di quella che a Bascapè quella sera fu una strage. Fu una strage perché è stato ormai appurato da risultanze tecnico-scientifiche perché nei resti cadaverici di Mattei è stato ritrovato una componente dei resti facenti capo al Campound B che è un potente tipo di tritolo e perché i carrelli, il carrello soprattutto dalla parte sinistra della guida del Morin Solgnier furono tranciati di netto da un'esplosione in volo nel momento in cui il pilota Irnerio Bertuzzi dette il comando di atterraggio perché Bascapè dista meno di 12 km dalla pista d'atterraggio dell'aeroporto di Milano di Malpense. Quindi si tratta ormai oggettivamente di un riscontro indiscutibile, si trattò quindi di un assassino e io credo che sia diritto del popolo italiano e anche del popolo marchigiano ma di tutto il popolo italiano conoscere gli esecutori di questo crimine e i mandanti di questo crimine che hanno sottratto all'Italia uno degli uomini più importanti e uno dei servitori dello Stato più fedeli per il popolo italiano che abbiamo avuto nel dopoguerra. Dalle sue ricerche emerge la motivazione, per quale motivo può essere stato ucciso perché per me che si tratti di uccisione da più parti viene dato per scontato il motivo, perché può aver influenzato il futuro economico dell'Italia questo omicidio? Io faccio una considerazione che non è una battuta, nel momento in cui moriva Mattei nel ottobre 1962 il prezzo della benzina in Italia era il più basso di tutta Europa, quindi non è una battuta ma è una costatazione. I motivi di questo omicidio sono nelle carte, sono nelle dichiarazioni, sono nelle prese di posizione di quelle che furono gli esponenti più influenti della diplomazia anglo-americana e francese. Mattei con l'introduzione della sua formula che portava il guadagno dei paesi produttori e possessori del bene dell'energia, quindi del bene del petrolio al 75% mentre al 25% i paesi che invece coadiuvavano questi paesi a estrarre il petrolio sconvolse, così facendo un equilibrio basato sullo sfruttamento e sull'egemonismo che era stato fin lì imposto dalle cosiddette sette sorelle come le definiva Mattei stesso, cioè le sette paesi, le sette multinazionali che appunto avevano l'egemonia del controllo di questa commercializzazione, di questo sfruttamento di queste importantissime materie prime energetiche e che come è noto erano fermi al 50-50, cioè quindi questa fu la causa principale, se poi a questo noi andiamo a ammettere che ultimi atti che fece Mattei fu la firma di un importantissimo trattato commerciale che poi ebbe degli effetti benefici postumi a partire dal 63 per esempio con l'allora Unione Sovietica, per cui il petrolio sovietico che era un petrolio di ottima qualità e veniva pagato a un prezzo sicuramente molto interessante per il popolo italiano e se poi aggiungiamo che l'Unione Sovietica faceva parte diciamo così dell'altra parte della cortina di ferro, di quel mondo che era stato diviso da quella logica assurda di alta tra una parte e l'altra, tra la parte del bene e la parte del male, la parte dei giusti e la parte di chi sbagliava, se a questo aggiungiamo l'apertura che Mattei fece lungimirante e coraggiosissima con la Repubblica Popolare Cinese, con le prime discussioni con l'allora Ministro degli Esteri Chunlai sulla possibilità appunto di intrattenere rapporti commerciali con l'immenso diciamo mercato cinese, allora la Cina era un paese che non aveva nemmeno il riconoscimento da parte dell'Occidente, ecco se aggiungiamo tutti questi altri motivi e queste altre considerazioni, il quadro è completo perché Mattei doveva morire, perché Mattei secondo la logica criminale di chi aveva il mondo nelle mani e soprattutto di chi identificava perfino politicamente gli interessi delle sette sorelle negli interessi nazionali del paese se stesso degli Stati Uniti d'America, cosa molto grave, ripeto perché se lei si legge quello che affermavano i massimi livelli del Dipartimento di Stato americano, i rappresentanti a massimo livello del Dipartimento di Stato americano dicevano che gli interessi delle sette sorelle erano gli interessi politici del governo americano, per cui chi metteva in discussione questi interessi si poneva come se facesse una dichiarazione di guerra al governo americano, alla faccia del libero mercato. Bene, la ringrazio, allora amici vi ricordo Alberto Marino, Enrico Mattei deve morire. Un saluto. Grazie a tutti.